I tempi delle liste d'attesa in Italia si allungano, anche per le prestazioni urgenti. Lo confermano le tabelle relative al periodo 2010-2012 pubblicate sul sito del Ministero della Salute. Un aumento variabile c'è stato per tutti i tipi di prestazione. Qualche dato positivo comunque c'è. Per esempio risulta che per la chemioterapia a media nazionale nel 2012 sia stata di 22,2 giorni, mentre nel 2011 era di più di 25 giorni. Purtroppo però se si va a guardare da vicino i dati delle singole regioni la situazione si aggrava. Per un bypass orto-coronarico l'attesa media nazionale è stata di 17 giorni, ma in Basilicata sono stati superati i 50 giorni e 49 in Sardegna.